Ehi, parliamo bene, parliamo bene, non ti permettete di usare questo palo con la gente che Allora, una nuova notizia che dice che l'isolamento non può chiudere anche la farmacia. Non c'è posto la farmacia! Non c'è posto! Sì, non importa, non c'è posto la composta. Ma guardi che i parabinieri hanno fatto tutto il giro. Sai che cosa ci hanno detto, dottoressa? Ci hanno detto che se avevamo fortuna lo facevamo. Ma nessuno ci ha detto di andare a casa. Ma signora, noi abbiamo dato una speranza perché pensavamo che noi che il computer sarebbe ripartito. Non esiste, le persone vanno avvisate. Signora, noi abbiamo avvisato. Ma dicendo che se avevamo fortuna ce lo facevamo. E certo, per questo cosa vuol dire? Se il computer fosse ripartito avremmo comunque... Ma di che cosa stiamo parlando? Della lotteria di Capodanno se abbiamo fortuna facciamo il tampone. Da stamattina alle 10. Quindi 9 ore, 10 ore. Più di 9 ore, sì. Dalle 10 del mattino. Quindi oltre 10 ore. 10-29, 10-29, 10-29. Di che ora del mattino? Del mattino. Ma è tantissimo. Eh, lo sappiamo. Senza riuscire a fare il tampone. 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 Senza riuscire a fare il tampone.